Dal teatro alla musica, passando per la danza, per gli eventi enogastronomici e culturali in genere. È ricchissimo il calendario di eventi estivi in programma a Imola nei mesi di luglio, agosto e i primi di settembre. Luoghi e situazioni che spaziano dal cuore della città alla sua prima periferia. Il tutto chiuso a settembre con la kermesse musicale di Imola in musica. Stiamo parlando di oltre 100 eventi, dalla presentazione di libri ai film all'interno della nostra straordinaria Rocca Sfortesca, ai festival che puntellano la nostra estate, aprendola, quindi quello in questi giorni, Punto Zero, e quello che la chiuderà, quindi Imola in musica, passando anche per Restart che verrà fatto nel secondo weekend di settembre. E poi appunto tanto altro, davvero eventi culturali che credo possono attirare le persone ad uscire e vivere la città, soprattutto nei suoi momenti serali, per i più piccoli e per i più grandi. Nel prossimo weekend abbiamo anche la seconda restituzione delle residenze che si sono tenute in città, quel progetto che abbiamo voluto fortemente per animare i nostri teatri in un momento in cui erano chiusi. E la prossima settimana appunto, sabato e domenica, ci sarà la possibilità di vedere la seconda residenza, quindi la restituzione alla città di questi artisti. Non solo Imola in musica, ma quindi anche questo progetto di residenze, ma anche un bando che abbiamo fatto che si chiamava Straordinaria Cultura, è andata anche in una direzione precisa, quella di provare a sostenere anche economicamente tutti quei lavoratori della cultura, in realtà che sono stati fermi per tanti anni. Grazie a tutti.